Una ragione importante per cui io abbia speso molto tempo, molte pagine, anche molta pazienza dei lettori che l'hanno letto, che lo leggeranno, questo libro che si chiama La Scuola Cattolica e che ha come suo spunto e come centro, come diciamo starter, un episodio particolarmente famoso e crudo di violenza che fu il cosiddetto delitto del Circeo 1975, di cui io parlo in realtà esclusivamente perché a commetterlo furono dei miei compagni di scuola, quindi è proprio il dato autobiografico a far muovere il tutto, sequestro di due ragazze portate in una villa vicino Roma al mare sul Circeo e se viziate, una di loro uccisa, l'altra i suoi sequestratori pensavano che lo fosse, è il fatto che quella violenza, quel singolo caso che mi ero lasciato alle spalle, come è poi anche giusto che tutto venga lasciato alle spalle, non dimenticato, ma conosciuto, saputo e poi superato, si è rivelato invece insuperato, insuperabile dal fatto che 30 anni dopo, esattamente 30 anni dopo, uno di loro, uno di quegli assassini nel 2005, Angelo Izzo ha di nuovo ucciso, in questo caso, una donna adulta e la sua figlia minorenne. Allora lì ho detto, beh, evidentemente appunto il passato non passa, questo tipo di episodio che fu tanto più scandaloso perché sembrò unico nelle sue modalità, nel fatto che venisse commesso da ragazzi, diciamo così, di buona famiglia e quindi non da teppisti delinquenti abituali, per quanto poi loro in realtà ti scopri che lo erano, evidentemente è una costante, qualche cosa con cui occorre, diciamo così, fare i conti. Io ci ho messo molto tempo nel tempo storico della mia vita e anche molto tempo nel tempo della scrittura del libro, che è durata a lungo e che copre appunto quasi 1300 pagine. Mi sembrava un modo anche di capire me stesso, di capire quella parte di me, quella che non è di essere umano, individuo, diciamo così, to cure, ma proprio di maschio, la mia identità di genere, insomma, cosa che non mi era mai accaduto di fare prima, onestamente, naturalmente di viverla questa identità, ma senza ragionarvi sopra e senza soprattutto provare a raccontare tante storie, come faccio nel libro, che hanno a che fare con il crescere tra maschi, avere rapporti dei maschi con i maschi. Forse mi interessa di più quello che è il rapporto dei maschi con le femmine, degli uomini con le donne, ma proprio come si relaziona, come ci si relazionava per esempio in questa scuola che era esclusivamente maschile. Cioè qual era la dinamica di competizione, tenerezza più delle volte frustrata tra maschi e come poi tutto questo portò, naturalmente in casi estremi come quello, a rivolgere poi l'aggressività che evidentemente veniva eliminata o ridotta al minimo all'interno di questo gruppo maschile verso, in questo caso, l'altro, totalmente alieno che all'epoca in una scuola esclusivamente maschile erano le donne. Io credo che vi sia nell'aggressività maschile rivolta verso l'altro sesso una forma di debolezza, una forma di manchevolezza o mancanza. Cioè questo soprattutto era vero, diciamo, per la generazione a cui appartengo quando crescevamo in una scuola maschile o mista è uguale, da questo punto di vista, cioè l'idea che si diventasse maschi, si dovesse acquisire uno stato di virilità o mascolinità. Questo status, questa figura da imitare, da trovare, da costruire fosse veramente irraggiungibile, perché virilità voleva dire forza, coraggio, fermezza, tutte qualità che io non ho mai veramente incontrato, almeno nella loro pienezza, in nessun individuo. E dunque fallendo, diciamo, per forza di cose questo obiettivo, e quindi l'essere maschi come il non riuscire a esserlo, non riuscire a diventarlo pienamente, alcuni potessero pensare di integrare questa parte mancante, di risarcire, di compensare attraverso l'uso dell'aggressività. Trovo che l'aggressività non sia tanto naturale nel maschio, più di tanto, quanto invece sia l'estrema risorsa a cui i maschi ricorrono quando scoprono di non poter essere quelli che si pretende che siano. E allora l'arma, proprio fisicamente, o il gesto violento, o il sopraffare l'altro, diventa il modo migliore per mascherare la propria debolezza, e soprattutto per evitare un rapporto invece con gli altri maschi di tenerezza, di dolcezza, che in un regime, diciamo così, virilista, verrebbe visto come una cosa effemminata. Allora, per evitare la propria effemminatezza viene fuori una mascolinità parodistica, carica, sovraccarica, insomma, di un'aggressività che non credo che sia ineliminabile. Da questo punto di vista vorrei chiarire quella che poi è la frase forse più dibattuta di questo libro, più citata, presa ad esempio o anche presa a dileggio, che questa frase, naturalmente strapolandola da tutto il resto, lascia il tempo che trova, comunque il fatto che nascere maschi è una malattia inguaribile. Ecco, è una malattia inguaribile quando si pensa a questa sanità integrale. Cioè, se essere maschi vuol dire essere perfettamente sani, e atletici, e robusti, e impermeabili al dolore, come al piacere, come le statue del Foro Italico, del Foro dello Stadio dei Marmi a Roma, ecco, se il maschio è quello, allora noi siamo, noi tutti individui reali, siamo malati e non guariremo mai perché non riusciremo mai a diventare così. È questa disparità tra l'essere reale e l'individuo immaginario che il maschio era chiamato ad essere fino a poco tempo fa, che costituisce questa malattia. Non c'è dubbio che sia in atto, come al solito, con un certo ritardo nel nostro paese rispetto ad altri, un discorso sull'identità maschile. Normalmente la si semplifica negli ultimi tempi sottolineando appunto gli aspetti dell'aggressività e della violenza. In realtà andrebbe ripensata per intero la figura maschile, perché se è vero quello che ho detto prima, in realtà nella natura maschile vi è una fragilità, un desiderio di intimità, una capacità di... per esempio un sentimentalismo. Il sentimentalismo maschile, essendo il sentimentalismo sempre stato, come dire, attribuito quasi per intero al lato femminile, non si è mai studiato questo sentimentalismo. Sentimentalismo che in alcuni casi diventa poi foriero di atteggiamenti violenti. Quindi quello che secondo me è sbagliato in questo discorso è se si limita soltanto a, come dire, a stigmatizzare l'uomo predatore e violento a rinfrontire le donne senza andare a esaminare, cioè la punta dell'iceberg, del comportamento virile, virilista, senza esaminare poi tutta quella grande parte sommersa della natura maschile che gli stessi maschi fanno fatica a riconoscere in se stessi. Quindi dovrebbe, secondo me, essere completato, al di là delle denunce contro la violenza maschile sulle donne, da un esame, io nel mio libro lo accenno, lo accenno più parlando delle mie esperienze che parlando di teorie, di dottrine, dell'intimo estruggente desiderio dei maschi di avere dei contatti tra di loro che non siano esclusivamente di tipo competitivo. Tutto questo si avvia in ritardo o, come dire, prende le mosse dalla riflessione femminista degli anni 70, cioè che si sia avviata sul maschio una riflessione sul maschio come genere è dovuta al fatto che le prime a farlo sul loro genere sono state le donne e quindi sono state quelle conquiste di libertà a produrre l'ipotesi, la possibilità che possa esistere anche una libertà maschile che non sia soltanto la libertà di esercitare la sopraffazione e la violenza sull'altro sesso. Quindi sono molto intimamente legate la libertà femminile e la libertà maschile. Io mi auguro che poi tutte queste due libertà finiscano per riconfluire in una libertà dell'individuo al di là del genere a cui appartiene. Grazie a tutti.